Riesco a capire come mai il Governo non sia presente a livello di aiuti per far ripartire le imprese che sono importanti a livello cittadino e una filiera importante che serve ed è internazionale. Anche Confesercenti critica il Governo sugli aiuti alle famiglie e alle aziende alluvionate, giudicati pochi e inadeguati, dalla mini proroga sulle scadenze fiscali alla mancanza di certezze sui rimborsi. Secondo Confesercenti stanno facendo molto di più i comuni nel loro piccolo. Non posso altro che essere arrabbiato con il Governo centrale quando vediamo qua intorno a noi piccoli comuni che stanziano decine e decine di mila euro a favore di coloro che hanno avuto bisogno. La prima stima dell'Associazione di Categoria di Via Pomeria è di 120 attività alluvionate a livello provinciale per un danno totale di 1.300.000 euro. Chi è stato risparmiato da acqua e fango ha dovuto però pagare le conseguenze indirette dell'emergenza che ha ridotto al minimo i consumi e azzerato la voglia di shopping per tutto il mese di novembre. La ripartenza è affidata al Natale, per questo Confesercenti ha messo in piedi una campagna di sostegno ai negozi di vicinato. Ci saranno canali social su cui diffondere varie promozioni, una guida alle idee regalo e dei buoni sconto speciali. Una cartolina regalo che verrà aggiunta ai pacchetti o ai regali che verranno fatti nel mese di dicembre e i negozianti potranno decidere in autonomia di offrire un buono regalo da rispendere poi passate le feste. Confesercenti darà il suo contributo. Abbiamo messo nella busta paga di tutti i dipendenti, di 37 dipendenti appunto, che ha Confesercenti una somma che dovranno spendere entro il 31 dicembre presso i nostri associati. L'assessora Squitieri ha ricordato l'importanza dei negozi di vicinato per il tessuto urbano. È importante stare vicino ai negozi di vicinato, noi l'abbiamo fatto come ogni anno, con le luminari in centro storico e anche facendo un lavoro di contributi verso tutte le frazioni della città di Prato.